bene amici bentornati a questa nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a gloria polo ecco stiamo seguendo gloria nel suo viaggio e la volta scorsa ci siamo fermati alla prima confessione si gloria sta ripercorrendo la sua vita e oggi riprendiamo dal stava guardando il libro della vita vi ricordate molte altre cose che ci venivano raccontate l'ultima appunto che il sacramento della riconciliazione è una grazia immensa veramente immensa e ho cercato di esortare anche un spirito catechetico come proprio ovviamente di un parroco a curare bene questo sacramento soprattutto chi non avesse mai fatto la confessione generale ora riprendiamo siamo a pagina 46 dal paragrafo dedicato ai sacerdoti nel libro della vita mentre guardavo la mia prima confessione vedi che gli uomini chiamati al sacerdozio nascono con una speciale ferita spirituale nel loro cuore è dio padre stesso a fargliela sul modello della ferita del cuore di cristo mi perdonerete che essendo sacerdote mi emoziono un po a leggere queste cose per la ferita spirituale questi uomini sono predisposti ma guarda a percepire dei dolori diversi da quelli che ordinariamente hanno gli esseri umani sono pene che vengono dallo zelo per il loro signore dio non sufficientemente amato per i fedeli che si perdono per i peccatori che non si convertono allora vi dico subito fotografia confermo al 300 per cento io ho sempre cercato di dirlo alle persone incredibile che ci sono alcuni dolori di un sacerdote che non possono essere compresi esattamente questi che dipendessero da questa ferita lasciata a chi c'ha la vocazione al sacerdozio dal dio padre stesso sul modello del cuore di cristo insomma è una notizia che cambia un po la vita amici cari non poco nessuna relazione per quanto appagante possa essere può calmare questi loro dolori verissimo al cento per cento la percezione di essi si perfeziona nel momento della loro ordinazione sacerdotale quando cioè il loro cuore si unisce a quello di cristo e la loro ferita diventa la stessa ferita di cristo poi amici miei qui c'è stata non dormirci la notte cioè vi posso dire soltanto una cosa la loro percezione immediata che c'ho a parte il fatto che l'ho conosciuta quello di lavoro lo sapete l'ho invitata e credo al cento per cento all'autenticità di questa testimonianza se non ci credessi ecco aver letto queste cose mi manderebbe in crisi perché dopo aver letto queste cose sarebbe molto difficile non crederci perché mi sta facendo il photo finish insomma sta facendo proprio l'auto l'autoritratto vabbè scusatemi con una certa emozione insomma tradita allora al momento dell'ordinazione la loro ferita diventa la stessa ferita di cristo comprendono pienamente allora che questi e non altri dovrebbero essere i loro dolori perché gesù chiamandoli non ha di dato loro una reggia una tavola una borsa una famiglia ma una croce la sua croce sulla quale morì nudo sulla quale espirò solo sulla quale dopo essersi staccato spogliato di tutto anche della sua povertà che era ricchezza rispetto alla sua miseria e di giustiziato al quale non resta che il patibolo fatto di poco legno e di terecchiodi e un pugno di spine tessute mi conosce sa bene che tante volte ho fatto notare alle persone guardate se c'è una cosa che mi urta non so che mi urta che mi dispiace non dovete mai farla è interpretare le mie azioni le mie reazioni le mie cose alla maniera umana per favore non fate mai una cosa di questo genere le sofferenze di un sacerdote non sono sofferenze come dire sono sofferenze evidentemente di un essere umano ma non sono umane cioè un sacerdote non soffre per modicazioni umane dietro le sue sofferenze che possono essere vi assicuro di un'intensità estrema c'è sempre un background cioè c'è sempre lo zero per la gloria di Dio come dice Acquigloria oppure la salvezza delle mie anime sapeste quante persone anche persone care che succede che quando gli devi dire qualcosa o gli devi dare un'esaltazione o anche una correzione o anche una bella lavata di testa se io divento cioè mi avvilisce l'accorgermi che le persone ci restano male come se io come dire le avessi trattati male così come se trattassi male un amico o una persona umanamente cara ma non è così non è così o peggio ancora quando nei miei confronti si nutrono aspettative umane umane attenzione a capire sempre bene il senso umane nel senso di umane di anche lecitamente umane normalmente umane ma io non sono stato non sono diventato sacerdote per soddisfare aspettative umane anche legittime delle persone che che il Signore mi manda a cui sono stato inviato io devo fare il sacerdote il sacerdote significa gloria di Dio e bene delle anime oggettivo e basta chi pensa altro chi cerca altro chi vuole altro deve cambiare indirizzo non deve rivolgersi a un sacerdote vabbè scusate quando c'è di mezzo l'autobiografia uno ecco si agita un po' mappa quanto è lunga questa storia proseguo a leggere comprendono in sostanza come d'altronde dovrebbero comprenderlo tutti i cristiani che le anime si salvano con il sacrificio con la generosità nel sacrificio che va sino allo spogliamento totale assoluto degli affetti dei comodi del necessario della vita le anime non si salvano con le chiacchiere si salvano con i sacrifici ho detto infinite volte Gesù Cristo ha sofferto ininterrottamente per 33 anni da quando è stato concepito d'accordo vado a leggere gli scritti di Santa Margherita Maria la Cocca di cui fezzeggeremo la festa tra qualche giorno il 16 ottobre vide il Sacro Cuore la croce sul Sacro Cuore vuol dire gliel'ha spiegato Gesù che dall'istante in cui fu concepito ha cominciato a soffrire fin dal grembo della Madonna e la passione e la morte di Gesù è stato il culmine non dice vabbè per 33 anni tutto sommato è andato abbastanza bene vabbè sì la povertà però digiuno di 40 giorni tutto sommato è andato abbastanza bene no non è così 33 di sofferenza 30 di vita nascosta simbolo della preghiera e 3 di vita pubblica quei 3 di vita pubblica traggono tutta la forza dai 33 e dai 30 quindi al primo posto il sacrificio al secondo la preghiera e al terzo l'azione apostolica predicazione compresa perché se non ci stanno perché le ar le anime si arano sono come una terra dice Gesù la parabola del seminatore ma la terra deve essere cioè per buttarci il seme che è appunto la predicazione la parola la terra deve essere prima arata e poi innaffiata il solco è una ferita che si imprima ed è un'operazione laboriosa cosa sono? sono i sacrifici sono un prete le deve fare un prete c'è la promessa tutti i giorni offre il sacrificio di Cristo il giorno dell'ordinazione dice vada a ciò che cerebri e imitalo tu devi essere conforme a Cristo il crocifisso la preghiera l'acqua se non il seme non attecchisce non si sa se non può non pregare non si sa se deve pregare tanto ma a minimo 3-4 ore al giorno minimo se non 5 o 6 deve farlo non sta a perdere tempo tutto tanto il giorno a far chiacchiere inutile a perdere tempo noi non possiamo permetterci il lusso di perdere tempo è un lusso che non ci si può permettere non da sacerdoti e poi lo zero apostolico la dedizione un prete deve sacrificarsi pregare oppure predicare amministrare i sacramenti i sacramentali le benedizioni direzione spirituale fine della sua vita basta finito beh ogni tanto mangia e dorme certamente non troppo non troppo spesso insomma scusate va beh se i sacerdoti rimanessero fedeli a questa loro missione sarebbero come il sole loro che Gesù ha chiamato luce del mondo guardate una bella giornata d'estate una gloria di luce si effonde dal sole e abbraccia la terra così vittoriosa e potente che anche nella stanza più chiusa l'oscurità non è mai completa sarà un raggio sottile come il capello di bambino sarà un punto tremolante su una parete sarà un pulviscolo toro danzante nell'atmosfera ma un piccolo segno di luce sta in quella stanza a testimoniare che fuori vi è lo sfolgorante sole di Dio ugualmente nei cuori più chiusi se dalle chiese sparse fra le case si effondesse una luce un filo un punto un pulviscolo di luce penetrerebbe quel tanto da ricordare che vi è sul mondo una luce quel tanto da mettere fame di luce di quella luce nei cuori e allora i sacerdoti continuando ad essere soli aspirerebbero le anime al cielo come fossero gocce d'acqua le purificherebbero nell'atmosfera del cielo come nubi che si sciolgono leggeri in benefica ruggiata durante la notte nel nascondimento porterebbero le frigere alle ferite e alle azioni di tanti altri cuori poveri fiori feriti da tante cose per la loro sublime missione i chiamati al sacerdozio divengono attenzione obiettivi militari del diavolo fin dal loro concepimento concepimento attenzione io conosco storie che non racconto che testimoniano che fin dal loro concepimento non è un modo di dire fin dal loro concepimento c'è stato che sono stati colpiti dal diavolo nel grembo delle madri conosco personalmente dico la verità non dico cosa ma so per certo che questa cosa è vera egli infatti riconosce la loro ferita mistica e tenta anzitutto all'aborto le mamme che li hanno in grembo come con me fece e vi riuscì lei ha abortito tra le altre cose dai che si pensava pure che era 10 e 60 o cerca di renderli inoffensivi muovendogli una vera e propria guerra fatta di proposte seducenti umanamente appaganti e alternative alla vita sacerdotale io questo io questo l'ho vissuto tutti quanti sanno io sono laurea in giurisprudenza sono stato fidanzato per tantissimi anni tutti quanti pensavano sarei diventato un super avvocato un super magistrato e ero pienamente indirizzato verso questa cosa per grazia di Dio fidanzamento casto per cui posso 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 fare le prediche sull'argomento senza pensare di averlo di averlo di aver di non aver custodito il giglio però io lo vedo che se non ci fosse stata chi mi conosce lo sa la storia drammatica e divina della sofferenza e della morte santa del mio amico si sarebbe smossa la mia coscienza a prendere in considerazione la chiamata al sacerdozio sapete che coi secco in mano non si fa la storia la circostanza contingente è stata quella altri modi certamente che il nostro signore ce n'è finiti però per me è stato quello però verissime queste cose sono tantissimi chiamati che il demone è riuscito a non fare ordinare i sacerdoti questo ve lo posso testimoniare io specialmente a Borgosa Michele posso affermare con certezza che almeno 6-7 ragazzotti che ho conosciuto perché noi poi ce ne accorgiamo io me ne accorgo non dico niente ma me ne accorgo se un maschiotto c'è una possibile evocazione uno ce ne sta pure a sermonita già è bello che è preso da un pezzo sono fatti fuori quasi tutti San Giovanni Bosco diceva su 100 chiamati 70 il diavolo li fa fuori prima quindi non li fa manca entrare nel seminario perché c'è il prima poi c'è il durante e poi c'è il dopo c'è il prima c'è il durante e poi c'è il dopo durante vuol dire che escono dal seminario o fanno un seminario pessimo come quasi tutti oggi e così diventeranno pessimi sacerdoti dopo è che fanno i sacerdoti tiepidi o peggio peccatori e quindi diventano anziché aiuti scandali quindi un sacerdote se la deve vedere con il diavolo è di brutto su questo state tranquilli che ve lo posso non assicurare stra assicurare prima durante e dopo per difendere il proprio dono e vincere le battaglie e la guerra il chiamato deve essere sostenuto dalle preghiere del popolo di Tio se mi posso permettere deve anche pregare lui senza volere con questo nulla negare perché se il sacerdote non prega è morto proprio non c'è proprio scampo e deve pregare tanto non basta che dice quattro preghiere mi avviso uno dei crimini proprio che è stata fatta dalla dalla riforma di tutto quello che è stato riformato di prima la nuova i nuovi volumi della liturgia delle ore fanno pregare pochissimo il sacerdote perché è stata tolta l'ora prima l'ora media solo una i salmi delle lodi sono tre anziché cinque dei vespri sono tre anziché cinque l'ufficio delle letture sono tre anziché nove l'ora prima è stata tolta alla compieta c'è un salmo anziché tre cioè il breviario precedente è quello del 62 cioè se già non si dice quello tutti i giorni è insomma pregato un po' sveditolo per ditto non t'ero un oretta un oretto un quarto anche un oretto e me 20 per fatte tutte le ore canoniche e quanto corri ce le metti per forza se si dicesse almeno tra quello la messa è una corona del rosario che è poco però di questi tempi sarebbe wow vabbè giunto all'ordinazione però il sacerdote non è lasciato in pace dal demonio vedete io l'ho anticipata egli infatti odia terribilmente le mani dell'unto le mani dei sacerdoti le bombe atomiche perché sa che solo attraverso di esse può aggiungere a noi la grazia sacramentale e che non c'è creatura alcuna capace di dare maggior gloria a dio di un sacerdote ma sentite che scrive è verissimo i santi dicevano se io incontrassi un angelo un sacerdote è stato curato d'Arsa io saluto il sacerdote non saluto l'angelo e pensate quando sento queste cose che tristezza perché sapete cosa ha fatto oggi il diavolo ha fatto perdere i sacerdoti la coscienza di questa loro grandezza li ha umanizzati secolarizzati nei modi nell'ambito nel linguaggio ti prendi diciamo un linguaggio inqualificabile un modo di vestirsi inqualificabile un modo di relazionarsi un modo di stare a tavolo un modo di mangiare inqualificabile un sacerdote è una persona celeste non è una persona terrestre atteggiamenti da amiconi ma quanto ma io l'ho detto e lo ripeto io ho imparato eh ai sacerdoti non si deve per nessun motivo dare del tu e se qualcuno pensa che questo viene dalla bocca di un superbo lo pensasse pure lo pensasse non sta bene e non lo si deve mai e per nessun motivo chiamare per nome mio manco il tu a mio fratello e mia sorella è concesso ma senza il don no manca a loro se qualcuno scambia queste cose per superbia faccia pure ma le forme esteriori sono una custodia di queste cose per consacerdote per consacerdote è un uomo di dio e deve manifestarsi e presentarsi come tale ed esigere di essere trattato per quanto sta in lui come tale sempre un sacerdote dentro non solo che devi mettere a talare se ma non se la deve togliere neanche dentro casa perché un sacerdote è sempre sacerdote anche quando sta dentro casa da solo perché non è che dentro casa da solo dio diventa cieco o l'angelo custodia diventa cieco diventa cieco forse o dentro casa c'è le storie di ordinaria no non ci sono non c'è creatura capace alcuna di dare maggior gole a dio di un sacerdote le sue mani hanno infatti il potere di rimettere i peccati estese in preghiera su un pezzo di pane e un po' di vino di compiere il miracolo della transustanziazione nel quale questi semplici alimenti si trasformano nel corpo e nel sangue di Gesù alimento celeste per la salvezza delle anime il demone allora tenta di renderle inoffensive le mani oscurando il dono di cui sono depositarie con lo scatenare contro i sacerdoti tremende campagne diffamatorie che pretendono distruggere tutti per il peccato di alcuni e allontanare così gli uomini dalla ricezione dei sacramenti da loro celebrati fratelli guai a giudicare i sacerdoti del Signore della santità dei sacerdoti ne risponde davanti a Dio infatti la comunità perciò dobbiamo pregare sempre per la loro santità e se vediamo i loro peccati visibili dobbiamo amarli ancora di più aiutandoli affinché non si perdano portandosi dietro migliaia di anime amate da Dio sentite la carità autentica che è questa donna no? un'anima che ha fatto giustamente un percorso è verità riconoscere che essi per mezzo dei sacramenti sono un dono di Dio per la nostra salvezza anche quando sono in peccato mortale ho appena mandato in stampa finalmente il libro sui sette sacramenti oggi tutto il giorno a fare le ultime revisioni giornata impegnativa e rileggendo tante cose c'erano i decreti del Consiglio di Trento che condannavano esplicitamente che dicevano se sono in stato di peccato mortale c'erano i sacramenti validi anche se sta in stato di peccato mortale ti assolve celebra la messa battezza dà l'olio santo la voce meravigliosa me lo fece capire dicendomi in purgatorio chi ti credevi di essere per eriggerti a Dio e giudicare i miei unti essi sono di carne come te chiederò il conto della loro santità alla comunità nella quale ho concesso il dono del sacerdozio io mi sono fatto un piccolo sorrisino insomma perché va bene non commentiamo se comprendessimo veramente tale dono daremmo gloria notte e giorno a Dio piangeremmo e digiuneremmo per i sacerdoti nel tentativo di proteggere la loro santità ecco mi dispiace figlioli miei cari però questa sera oltre che un regalino a me inaspettato questo credo che faccia anche fonte di considerazione per tutti se i sacerdoti oggi hanno smesso di farli i sacerdoti di sentirsi sacerdoti e a volte anche di essere sacerdoti nessuno di voi cooperi il sacerdote viene a dirti dammi del tu no padre io le do e lei il sacerdote non si vuole far baciare la mano tu comunque provaci la toglie e vabbè ti prendi st'umiliazione poi dice che sono questi gesti strani ma padre lei ha le mani consacrate lei ha il potere di consacrare se mi metto una mano in testa solo che mi mette la mano in testa mi arriva un autotreno di grazie quindi è un modo per esprimere questo atto di fede e questa cosa di venerazione io vi posso raccontare una volta X ho incontrato un sacerdote Y che stava vestito come al solito mi chiese di parlare e io gli ho detto gli ho baciato la mano e questo ha detto padre a me sta cosa non me l'ha mai fatta nessuno mi fa commuovere come lo fa commuovere e insomma questo praticamente poverino ha completamente perso la percezione di quello che è non deve perdere la percezione di quello che è queste cose non è che dice ammazza che bello che so ho le mani consacrate io so io e voi niente non si tratta di questo queste sono cose oggettive che devono far come dire tremare di stupore di di riverenza il cuore e l'anima di un sacerdote ma di lui non deve essere consapevole cioè più un sacerdote come dire perché oggi questo va di moda dà segnali di voler essere misconosciuto come tale io sono come tutti voi no tu non sei come me io non sono come te in questo senso è importante il ruolo che gioca la comunità in cui un sacerdote sta vabbè e il santo quando qualcuno si lamentava dei preti gli diceva quanti digiuni hai fatto per lui quanti preghiere hai fatto per lui nessuna allora ti voglio manco stare a sentire dopo che hai fatto le preghiere e digiuni torna che ti puoi lamentare un po' del tuo parroco la prima comunione dopo la mia prima confessione giunse il tempo della mia prima comunione la notte precedente il fatidico giorno le emozioni in me era tale da impedirmi di dormire e da indurmi la mattina seguente a vestirmi rapidamente con l'abito religioso prestatomi da una sola minuta e a presentarmi in chiesa con largo anticipo avrei ricevuto per la prima volta Gesù e avrei anche ottenuto la grazia che secondo la mia catechista gli avrei potuto chiedere in quel giorno speciale sapendo di ottenere questa è una cosa che io dico sempre domani mattina che vedrò i ragazzi per il ritiro della prima comunione gli dico sempre le stesse cose tra le cose che gli dico c'è una grazia speciale che il Signore concede per il giorno della prima comunione bisogna dirglielo ai ragazzini pensateci e poi chiedetela e io una grazia da chiedere ce l'avevo proprio che cessassero le visioni delle anime dei defunti mentre il raccoglimento attendevo l'inizio della funzione lottando contro i miei pensieri distraenti incominciai a vedere qualcosa che superava di gran lungo le mie aspettative basate sulle visioni avute in precedenza il tetto della chiesa si dissolse come nebbia al vento e potei scorgere in lontananza il giadro vuolo di avvicinamento maestoso angelo alato aveva in mano un grande calice lo seguì con il mio sguardo fino sopra la chiesa dove muovendo dolcemente le ali stazionò un attimo per poi inclinare il calice e riversare così il suo prezioso contenuto sui fedeli una luminosa rugiada violacea su quanti erano raccolti in preghiera questa bellissima e delicatissima rugiada infuse desideri di adorazione di accoglienza gioiosa e di lode del Signore insieme a una profonda gratitudine grazie insomma che avrebbero disposto i fedeli a partecipare attivamente alla celebrazione agaristica e a ricevere degnamente e quindi efficacemente Gesù sacramentato su quanti però erano distratti o intenti in preghiere interessate non utili alla loro salvezza eterna questa pioggia di grazia non poteva operare e scivolò sul pavimento la Santa Vergine Maria però si avvicinò a ognuno dei presenti e attingendo al proprio cuore offrì a tutti i presenti compresi distratti e gli interessati i suoi tesori simili a monete d'oro erano grazie speciali supplementari che avevano la stessa funzione di quelle preparatorie portate dall'angelo anche i santi dietro ai presenti delle grazie che avevano la funzione di venire in aiuto alla particolare debolezza di ognuno vedi per esempio Sant'Agostino accostarsi a quegli occhi a quegli uomini che facevano fatica a tenere i propri occhi a bada spinti come erano a guardare ciò che non dovevano Sant'Agostino egli offri loro quella grazia che lui stesso meritò in terra con la quale vinse l'esiluzione della carne quelle esiluzioni che spingono l'uomo a cercare nei piaceri carnali ciò che è possibile trovare solo nel cuore di Dio e se posso qui permettermi di fare un pit stop qual è il motivo per cui le donne specialmente in chiesa devono essere oltremodo modeste velo muli ebre compreso per evitare che succedano queste cose perché se in chiesa c'è qualche ometto e questo ometto ancora è molto imperfetto nella santità questo ometto comincerà a guardare in giro solo che se non c'è niente da guardare che guarda se c'è qualcosa da guardare certamente guarda io perdonatemi quando ti vedo in chiesa certi personaggi che vengono a fare cura della comunione rossetto rosso truccate come le superstar di hollywood smalto bianco rosso verde o nero su mani e su piedi e io mi si accappona la pelle non dico niente perché dopo insomma sono mi avviso comportamenti vai in chiesa come ti ha fatto papà almeno in chiesa cioè non puoi rinunciare a questi inutili per quanto mi riguarda acconciamenti esteriori inutili sicuramente una madonna stare tra qui che non usava rossetti né smalti né trucchi né batite nere che servono a diventare un mostro ecco né tinte né impicci né imbrogli ecco perché anche una donna che è conciata in quel modo lì anche se non fosse vestita in maniera in vereconda viene guardata viene notata poi il rosso cioè lo sapete questo è scientificamente provato dovunque si trova una cosa rossa attira lo sguardo ma sappiate che il rosso e il nero quindi le matite e i rossetti informatevi rosso e nero perché quello che era la maglia del Milan rosso e nero qual è il simbolo del Milan il diavolo poveracci insomma perché i colori del diavolo sono il rosso e il nero guarda caso no gli estremisti di sinistra che cosa c'avevano il rosso no e i tra gli estremisti di destra che cosa c'avevano il nero no alle messe nere che colori ce stanno il nero e i sacerdoti il rosso cappucci nere cappucci rossi scusatevi che sono così però queste cose io le dico quindi a chi non piace sentirmi non è obbligato a sentirmi perché per carità di Dio non stiamo sul rai 1 quindi non c'è nessuna per carità di Dio tra l'altro andare sul rai 1 o robe del genere quindi si Sant'Agostino fa il suo lavoro ecco però se uno si propone di semplificare il lavoro a Sant'Agostino non è che fa grandissimi danni quando il sacerdote fece il suo ingresso in chiesa con lui c'era Gesù Dio Padre era presente in una bellissima nube luminosa che rese tutto trasparente e gli splendenti vi erano anche tutti gli angeli tutti i santi e le anime del purgatorio vi erano anche alcuni ecolizzanti di tutte le nazioni della terra di tutte le religioni che per vie misteriose e straordinarie avevano accolto Cristo dopo aver vissuto una vita retta nella loro religione che credevano vera vedete questo era il principio della salvezza della possibilità della salvezza per i non cristiani erano presenti per ricevere il viatico perché solo chi mangia e beve il corpo e il sangue di Cristo potrà entrare immediatamente in cielo queste sono notizie veramente sconvolgenti cioè questa è veramente tantissima roba questa qui cioè il viatico perché Gesù ha detto se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue non avrete la vita anche tutte quante le comunioni chi conosce la divina volontà hanno fare sempre la comunione nella divina volontà perché che significa che se faccio la comunione nella divina volontà io porto la santa comunione a tutti e tra questi tutti chi è in grado in qualche modo di poterla ricevere la riceve nei riti iniziali della messa quando si recitava la formula della confessione generale mi venne erargita una grazia che riparò un mio peccato consistente nell'aver omesso di contribuire all'estensione del regno d'amore di Dio sulla terra pensate un po' chi mai ha pensato tra i peccati da confessare questo dice che ha peccato eh ha omesso di contribuire all'estensione del regno d'amore di Dio sulla terra attraverso qualche testimonianza qualche parola da dire no per esempio stavo sull'autobus dico mo mi dico rosario però la tiro fuori la corona se no poi chi lo sa pensano che sono bigotto ecco e ho omesso di contribuire all'estensione del regno d'amore sulla terra per esempio adesso la prima cosa che mi viene in mente ah stavo a mensa in ufficio come si chiama in ufficio oppure in fabbrica e mica mi faccio il segno della croce con la preghiera prima che mangio se no poi che pensano come non la fai certo che la fai al momento della liturgia della parola fu Gesù stesso sentite sentite a proclamare la parola di Dio e a infondere su tutti i presenti che le richiedevano le grazie necessarie all'accoglienza e all'obbedienza di essa Gesù avrebbe voluto che di tale grazie ne beneficiasse tutti specialmente coloro che non erano più bisognosi e cioè chi non le chiedeva ma frustrava la sua generosità per rispetto della libera volontà dei fedeli come sempre durante la processione offertoriale vedi Gesù piegato e sfinito dal dolore percorrere con la croce sulle spalle la lavata centrale della chiesa nel suo incedere verso l'altare nuovo mistico Golgota cercava di incrociare lo sguardo di tutti i fedeli presenti nella liturgia per poterli guardare negli occhi chiamarli per nome e dirgli con infinita dolcezza per amore tuo vado al calvario ti amo giunto che fu all'altare che stese che stese le braccia e si offrì per la salvezza di tutti noi glorificando con la sua obbedienza il padre quando nell'epicresi poi il sacerdote impose le mani sulle offerte del pane e del vino vi fu effettivamente razione dello spirito santo invocato che io vedi come un'esplosione che investì non solo il pane e il vino il celebrante stesso e tutta l'assemblea ma anche l'ultimo angolo recondito della creazione Gesù dalla croce mentre pronunciava con il sacerdote le parole consacratorie questo è il mio corpo si strappò il cuore dal petto e lo pose nella patena e mentre poi pronunciava sempre con il sacerdote le restanti parole consacratorie questo è il calice del mio sangue spremette il suo preziosissimo sangue dalle sue vene e ne riempì il calice Dio padre con gioia paterna invitò tutti ad accostarsi all'altare venite piccoli miei venite il banchetto del pane disceso dal cielo è pronto mangiate e abbiate vita in abbondanza vedi dunque che l'anima di coloro che ricevettero degnamente la comunione eucaristica fu riempita e rivestita di Cristo e del suo amore Dio padre allora nel guardare i comunicandi non posò più il suo sguardo sulla loro imperfezioni umane ma sulla pura perfezione risplendente di suo figlio Gesù e qui in nota c'è scritto che è una descrizione ancora più mistica ancora più profondiva della Santa Messa è presente nel testo penso che molti lo conoscano di Catalina Rivas per riscoprire la Santa Messa no? anche qui in me l'associazione 2021 chi lo volesse trovare online su www.profeti.net non c'è molto da commentare avete visto che cosa è la Messa la Messa non è uno scherzo anche questo ripassato in questi giorni di correzione dell'ultima bolsa dei sette sacramenti la Messa è il sacrificio della croce che si compie in atto qui avete visto Gesù che si strappa il cuore dalla croce lo mette sulla patena espreme dalle vene il suo sangue prima di riempire il canice non è un gioco non è uno scherzo non è un simbolo l'offertorio il glorioso offertorio quando la vittima si preoffre vado a soffrire dal calvario per te ti amo qui sapete che le messe celebrate da Padre Pio questa cosa la facevano proprio vedere perché il Signore immedesimato perfettamente in Padre Pio cominciavano io me l'ha raccontato chi era servita la Messa di Padre Pio proprio dall'offertorio in poi cominciavano i primi sanguinamenti dalle mani ora devozioni devozione eucaristica devozione mariana e santità le esperienze mistiche vissute nella mia prima comunione quindi queste cose sono tutte quante vissute cioè queste cose gloria le ha viste quindi tu avevi pensato una bambina che aveva avuto questi doni mistici e poi vedrete tutto quello che succede uno si chiede ma come è possibile che una persona che ha avuto questi doni poi precipiti in quel modo eh figlio l'invigare il diavolo fa il suo lavoro e purtroppo poi la nostra libera volontà ci mette il resto senza che ci venga l'ansia nemmeno l'angoscia però teniamo sempre per fermo che nessuno di noi sta al sicuro al cento per cento nessuno di noi ci ha già ipotecato la salvezza per quante grandi grazie avessi ricevuto dal Signore attendete la vostra salvezza con timore e tremore scrive San Paolo ecco sia sempre questo il nostro il nostro monito nuovo paragrafo devozione eucaristica devozione mariana e santità le esperienze mistiche vissute nella mia prima comunione e in altre messe successive mi dietro il desiderio di imitare la mia mamma e quindi di stare con Gesù caristico anche dopo la messa in silenziosa adorazione o recitando la salvezza della Vergine Maria qui c'è tutto quanto lo spazio per ringraziamento dopo la messa che è minimo 15 minuti se si può potrare di più meglio anche un'ora tutta salute io non ho nessuna difficoltà a dire quando ho i tempi compressi io non mi muovo prima di 15 minuti ma ordinariamente l'ora dopo la messa è sacra sano benissimo non mi venite a chiedere di confessarmi dopo la messa a meno che non è ammazzato qualcuno e c'è proprio una cosa che c'è proprio l'urgenza di togliertela disponibile sempre ma per favore in quel momento lì se non c'è veramente una cosa proprio urgentissima io devo stare con il signore sapete che c'è un netto di Giovanni Paolo II lo raccontavo tante volte no? quindi faceva sempre ringraziamento dopo la messa una volta c'era aspettato il Presidente degli Stati Uniti lo raccontavo tante volte allora quello si mette lì in ginocchio tutto raccolta a fare ringraziamento e fuori c'era un signore che stava agitando questa Presidente degli Stati Uniti chi c'è va glielo dice lui no io non c'è vado insomma alla fine non lo trova coraggio sta vicino la santità la prego di perdonarmi mi scusi ma guardi che la sta attendendo il Presidente degli Stati Uniti il Presidente degli Stati Uniti ma io sono adesso sono sono impegnato con il re del re il Signore dei Signori il Presidente degli Stati Uniti può tranquillamente aspettare no? succede niente o non succede? succede niente aspetta mi era molto facile farlo perché avevo ricevuto il dono di un fervore soprannaturale alimentato senza mio sforzo dalle grandi consolazioni che ricevono nella preghiera capitano periodi così consolazioni che sanavano le ferite del mio cuore infertemi continuamente dal demonio per mezzo di mio padre dei miei fratelli per i quali ero ancora tra l'altro la mattarella di casa anche se il Signore mi aveva concesso la grazia della cessazione delle visioni delle anime dei defunti che la impressionavano particolarmente specialmente avete visto quando abbiamo parlato delle anime dei del puttatore di quelle che si erano suicidate di quelle che stavano soffrendo enormemente no? fintanto che avessi assecondato il dono del fervore sopranaturale per la preghiera di adorazione e avessi poi continuato a pregare anche quando tale dono mi fosse stato tolto per il povere divino per far più spazio il mio merito avrei permesso al Signore di continuare in me la sua opera di sanazione del mio cuore e neutralizzazione dell'opera demoniaca che tendeva rendermi a comportamenti e decisioni errati questo è un passaggio fondamentale scusate se se mi fermo queste esperienze di questa bambina anche nello straordinario avevano un obiettivo da parte del Signore quello che ha detto fare una opera di sanazione del mio cuore e neutralizzazione dell'opera demoniaca cioè le ferite che noi ci portiamo dietro ne ho parlato nel ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo e in quello più antico che adesso momentaneamente sta in privato ma i miei collaboratori sanno che prossima loro dobbiamo fare di metterlo pubblico anche quello io ne ho parlato le ferite che ci portiamo dietro ci condizionano allora come si fa a guarire? con la preghiera però tu devi numero uno se ce l'hai a secondare il fervore sopranaturale quindi ti viene da stare un'ora davanti al santissimo ci devi stare se ce l'avevi e l'hai perso chiedilo a parte il fatto che devi fare come quando ce l'avevi quindi se tu stai un'ora soffrendo dicendo mamma mia sono diventato un pezzo di ghiaccio non fa niente stacce lo stesso e chiedi al signore che te lo ridia se no perché se il fervore divino ti tiene tolto come qui spiega è per darti maggiori meriti dicono maestri di spirito cioè stare con Gesù quando ci abbiamo il fervore ma è la cosa più bella del mondo non facciamo nessuna fatica cioè il problema è starci quando il fervore non ce l'hai più che tu stai lì mi sembra che sto a perdere tempo c'ho un sacco di cose da fare stai lì stai buono anche qui quante esortazioni faccio tante volte alle anime pazienza quindi attraverso questo percorso che è un percorso di preghiera e soprattutto contatto con Gesù Eucharistico tutti i nostri problemi si sanano davanti all'Eucharistia ve lo dico da sacerdote la Madonna diceva a Fatima che non c'è problema nazionale internazionale guerre di cui sono tutti preoccupati ma tanto guerre catastrofi pandemie vere o presunte qualunque cosa che non si risolve con il rosario in mano tu vedi chi ci crede l'Eucharistia è a mio modestissimo parere lo strumento per risorgere tutto quello che ti ha fatto male ci sono delle esistenze che sono state veramente devastate questo c'è avuto il padre a volte c'è la madre a volte c'è la madre a volte c'è la madre a volte sono tutti e due i fratelli non sono cose cioè noi queste cose ce le portiamo dietro il male subito è un generatore di male apre delle apre delle porte dentro di un attraverso cui poi vedete si insinua il demonio per portarci per indurci a comportamenti errati questo è un giochetto da ragazzi posso fare un esempio proprio no la classica ragazzina che non si è sentita amata dai genitori o ha vissuto esperienze traumatizzanti appena comincia ad entrare nell'età degli amori che vede che qualcuno se la fila o esisto per qualcuno quel qualcuno poi va subito a chiedere cose che non si dovrebbero che cosa pensa una ragazzina ebbe per forza c'è uno che mi vuole bene che faccio se non faccio questo perdo questo bene che mi vuole e quindi lo faccio capite come cioè come questo è un esempio classico di come il demonio attraverso le opere di devastazioni subite ci induce a comportamenti certo ci induce non è che i responsabili siamo noi però queste cose devono essere sanate e queste cose saranno in questo modo ora che succede sostenuto dalla preghiera ero capace di compiere degli atti di pura generosità che nella maturità mi sarebbero stati addirittura impensabili nel libro della vita la voce meravigliosa me ne mostrò uno in particolare stavo camminando per la strada tutta contenta e fiera delle nuove scarpe da ginnastica che la mia mamma mi aveva comprato durante la passeggiata notai un bambino scalzo e a quella vista il mio cuore si riempì di dolore mi tolsi subito le scarpe e gliele consegnai tornata a casa scalza mio padre quasi mi ammazza di botte perché quelle scarpe gli erano costato un occhio della testa e nella povertà in cui versava la nostra famiglia non poteva di certo comprarmi delle altre ma come era contento di me Dio del cammino che avevo intrapeso nonostante vivessi in una famiglia che nella maggior parte dei suoi componenti mi dava esempi contrari alla santità bellissima questa storia questa storiella il demonio era libido di rabbia nei miei confronti e deciso di riprendermi a tutti i costi quindi ha deciso di riprendermi a tutti i costi sto disgraziato progettavo una terribile e crudele rivincita quale rivincita andiamo a vedere se non ero riuscito a farmi sua schiapa per mezzo delle ferite provocatemi negli esempi contrari alla santità offertimi da mio padre dai miei insegnanti e dai miei fratelli ci avrebbe nuovamente provato da lì a un anno come e poi ci fermiamo per mezzo delle amicizie e il prossimo paragrafo si chiama la svolta dei miei tredici anni purtroppo l'età preadolescenziale o adolescenziale è micidiale le amicizie amicizie cari i genitori per favore per favore per favore per favore stiano attenti alle cattive compagnie se non il prossimo ciclo di catechesi le faccio sulle bordate che dava al riguardo il santo curato d'Ars suonando per bene i genitori e dichiarandoli responsabili dei peccati commessi dai figli per l'occasione di peccato che i genitori stessi non gli avevano fatti fuggire e per le cattive amicizie che gli avevano permesso di frequentare le amicizie sono la rovina e attenzione che a volte le cattive amicizie si possono trovare ahimè nel parentato cuginetti e cuginette io capisco che queste situazioni sono altamente pericolose estremamente difficili da gestire antipatiche perché se tu c'è il figlio del tuo fratello che è mezzo delinquente e quello magari vuole che tuo figlio stia con lui come fai a svicolare a dirglielo difficile certamente però bisogna inventarsi qualcosa ci sono delle cose nella vita che sono difficili che sono difficilmente gestibili quindi la nostra la nostra psiche immediatamente quando percepisce una cosa entra in stato di agitazione e tende sempre a trovare la scappatoia più comoda giustificandola così figlioli miei cari purtroppo non si vuole andare avanti è tutto quanto umanamente comprensibile per carità però ci porta alla rovina quindi le cattive amicizie vanno fuggite e i nostri figli devono essere aiutati a fuggirle però di questo parleremo se ti vuole la prossima volta vedendo che combina gloria a 13 anni che Dio vi benedica e che la Santa Vergine sempre e tutti ovunque vi protegga grazie a